buongiorno dall'officina della regina con questo video inizieremo a trattare un argomento nuovo quello dei saponi rilavorati che cosa sono i saponi rilavorati sono saponi che si realizzano partendo da saponi già fatti si prende un sapone si grattugia si fa scaldare sciogliere a bagnomaria sul fornello poi si aggiungono gli essenziali colori erbe quello che si preferisce e si fa risolidificare il sapone che faremo oggi è un sapone da barba concepito in maniera decisamente originale i veri saponi da barba vengono saponificati con idrossido di sodio e idrossido di potassio insieme l'idrossido di sodio è l'alcali normalmente utilizzato nei saponi solidi mentre l'idrossido di potassio è quello che viene impiegato per realizzare saponi liquidi questi alcali si possono miscelare tra loro in rapporti diversi per ottenere i saponi dalla consistenza più o meno dura in commercio si trovano normalmente saponi solidi da qui l'idea di utilizzare il sapone alga che questo sarà il nostro jolly sapone alga è un sapone potassico quindi è quello che ci occorre per questo tipo di sapone da barba e poi insieme al sapone alga utilizzeremo del sapone di marsiglia che ci fornerà l'idrossido di sodio di cui abbiamo bisogno i saponi da barba sono composti principalmente da grassi saturi come l'olio di cocco e da acido stearico che di cui è molto ricco l'olio di palma quindi questi due ingredienti per noi sono l'ideale perché il sapone alga è fatto esclusivamente con olio di cocco mentre questo tipo di sapone di marsiglia è fatto principalmente di olio di palma che è molto ricco di acido stearico per questo tipo di sapone ho scelto i provenzali sapone extra fine marsiglia all'olio d'oliva che naturalmente rappresenta solo una piccola percentuale ho scelto questo perché è 100 per cento vegan quindi non contiene derivati animali o prodotti animali e senza coloranti senza derivati petrolchimici e senza edita contiene dei profumi ma vabbè possiamo passarci sopra per il resto si può dire che è un buon sapone l'olio di palma di cui è composto è sostenibile e certificato rs p o cos'altro vi serve per questo sapone un poca argilla verde che servirà per far aderire il rasoio alla pelle oppure del biossido di titanio se fate un sapone con l'argilla verde otterrete un sapone come questo di questo colore e se invece metterete il biossido di titanio otterrete un sapone bianco sulla pelle ho notato che il biossido di titanio è più adatto per pelli sensibili e secche mentre l'argilla verde per pelli più robuste e anche grassi e poi serviranno oli essenziali io ho scelto eucalipto e menta che mi sembrano i più adatti per la rasatura e potete mettere anche delle tea tree che è un ottimo disinfettante e infine ci servirà del burro di karité che servirà a rendere questo sapone più dolce perché stiamo utilizzando un sapone che nasce come sapone da bucato quindi è un po' forte e con il burro di karité diventerà veramente delicato se non avete il burro di karité potete mettere un altro olio o un olio di mandorle per esempio che andrà molto bene e anche del burro di cacao che però tenete presente che renderà il sapone un pochino più duro poi serviranno servirà una vaschetta per mettere il sapone e per dargli la forma e se dovete fare un sapone solo con le quantità che darò potete utilizzare direttamente la vaschetta dove poi metterete il sapone come questa così e la foderate adesso vi faccio vedere come e poi versare il sapone e lo fate solidificare direttamente nella formina così prenderà la forma dello stampo altrimenti se volete fare più di un sapone e io questi due li ho fatti in una vaschetta come questa l'ho sempre foderata e poi ho colato il sapone qui dentro e quando era solido l'ho tagliato in due per utilizzare queste vaschette però dovrete fare attenzione a sceglierne una che abbia le dimensioni adatte per ottenere un sapone dalle misure che poi entreranno nella vaschetta che utilizzerete per schiumare il sapone e allora siete pronti mettiamoci al lavoro servono 50 grammi di sapone di marsiglia per uso personale non quello da bucato io peso il pentolino e sono 356 grammi mi servono 50 grammi di sapone e quindi quando lo avrò grattugiato dovrò avere un peso totale di 406 grammi e adesso grattugio grattugiamo sottilmente perché così il sapone si scioglierà prima ancora qualche grattugiata vi ricordo che adesso stiamo facendo un sapone da barba e quindi se ne volete fare di più dovete raddoppiare le dosi ok ci siamo perfettamente 406 grammi adesso aggiungo 70 grammi di sapone alga a pezzi questo è molto gelatinoso questo sapone non so se lo conoscete si rompe facilmente allora zero la bilancia e ne metto 70 grammi con questo sapone alga poi faremo altri saponi ed abbucato prossimamente ecco ci siamo ora aggiungiamo 15 grammi di burro di karité possiamo fare anche dei pezzi più grandi perché tanto questo si scioglie subito poi mettiamo l'argilla verde oppure il biossido di titanio io metto il biossido di titanio oggi così li faremo bianchi e ne serve un cucchiaino che è più o meno 2,8 3 grammi non aggiungiamo acqua perché è sufficiente quella contenuta nel sapone alga gli oli essenziali invece li metteremo più tardi alla fine prima di andare sul fornello e prepariamo lo stampo dove metteremo il sapone a solidificare io prendo la vaschetta così vi faccio vedere come dovete fare se anche voi utilizzerete già una vaschetta di quelle proprio per il sapone da barba prendete un foglio di pellicola per alimenti e la mettete all'interno e questo praticamente è tutto quello che dobbiamo fare non è che serve di più adesso ho dato già la forma non vi preoccupate se ci sono delle pieghe perché comunque dopo si distenderà da sola con il calore se dovete fare più di un sapone e farete la stessa cosa su una vaschetta più grande lo stampo è pronto questo è il nostro preparato e adesso possiamo andare sul fuoco vi occorre una pentola più grande in cui posizionare quella più piccola dove avete grattugiato il sapone per sciogliere tutto a bagnomaria quindi nella pentola di sotto mettete l'acqua mettetene fino al livello del sapone o anche di più non di meno a questo punto coprite bene perché non deve evaporare tanta acqua e accendete il fornello e adesso aspettiamo che arrivi a debollizione inizi a bollire e abbassate un po' il fornello e lasciatelo bollire dolcemente per il tempo che serve ci vorrà circa un'ora e fra poco vi farò vedere come si scioglie in questo tempo controllate il livello dell'acqua se si abbassa troppo aggiungete dell'acqua facendo attenzione a non farla cadere nel sapone abbassiamo perfetto sono trascorsi 15 minuti qui si è sciolto naturalmente il burro di karité e si inizia a sciogliere il sapone alga mentre il sapone di marsiglia è l'ultimo in ordine possiamo iniziare a mescolare il sapone rilavorato non diventerà mai completamente liquido ma al massimo raggiungerà lo stato di crema un po' densa ecco non apritelo troppo spesso altrimenti evapora tutta l'acqua adesso lo chiudo e lo lascio stare così non lo riapro per almeno altri 15 minuti sono trascorsi 35 minuti e ora ispeziono è un pochino più morbido di come lo avete visto prima però non è ancora pronto copro e aspetto ancora un po' sono trascorsi e 50 minuti è abbastanza morbido io direi che può andare perché ne ho fatto uno soltanto e quindi ho fatto un po' prima se voi ne fate due sicuramente ci vorrà un pochino di più e anche se rimangono dei pezzettini che non si sono sciolti non ha importanza perché i saponi rilavorati non vengono perfetti adesso spengo poi lo tolgo e lo porto sul piano da lavoro e metto velocemente gli oli essenziali perché si raffredda molto facilmente e diventa presto e duro eccolo qui adesso aggiungo olio essenziale e di menta ne metto 12 gocce e metto 8 gocce di eucalitto potete mettere anche altri oli essenziali io ho scelto questi perché in un sapone da barba stanno molto bene mescolo velocemente attenzione che la menta scordisce e adesso prima che diventi troppo duro lo verso nello stampo si sente la lavatrice? adesso schiaccio come ho detto diventa subito duro e quindi bisogna farle cose velocemente allora io faccio così lo chiudo e poi ci passo sopra qualcosa che me lo schiacci ecco questo lo lascio stare così fino a domani e poi domani lo posso estrarre tolgo la pellicola e lo metto su un foglio di carta ad asciugare coperto così gli oli essenziali non evaporano e lo faccio asciugare per circa 48 ore dopodiché posso anche confezionarlo come questi ed ecco la ricetta completa come avete visto è prevista l'argilla verde oppure il biossido di titanio in realtà potete mettere anche altri tipi di argilla come l'argilla rosa l'argilla rossa che hanno azioni diverse sulla pelle per chi volesse approfondire il discorso dell'autoproduzione del sapone naturale e compreso la rilavorazione dei saponi e può prendere il mio libro saponi e shampoo solidi naturali dove tra le altre cose a pagina 89 troverà tutti i diversi tipi di argille e come utilizzarle nel sapone e adesso mentre il sapone che abbiamo appena fatto si riposa nello stampo e si solidifica vediamo come si comporta un sapone già finito e questo l'ho fatto qualche giorno fa e naturalmente i maschietti ne sapranno più di noi però intanto vediamo quanta schiuma produce e si mette il sapone finito nella vaschetta che avete scelto di utilizzare e poi si bagna si bagna un bel po' all'inizio e poi si fa schiumare alcuni versano proprio l'acqua e vedrete che presto si produce una schiuma ricchissima perché l'olio di cocco produce una schiuma fantastica e poi questo sapone viene davvero molto delicato possiamo utilizzare questo sapone anche per la depilazione femminile non solo per la barba ecco questo non è la ciotola adatta per cui il sapone mi gira nel contenitore però l'importante è che un po' abbiamo reso l'idea ecco qui, si vede? quando avrete finito scolate l'acqua dalla ciotola e lasciate il sapone direttamente nel contenitore ma non copritelo in modo che possa asciugarsi il sapone è pronto con questa bellissima schiuma soffice e cremosa un ciao dall'officina della regina e alla prossima ricetta e alla prossima e alla prossima Grazie a tutti